Amici di Battista 70 Phone, Catalyst presenta al FIFA di Berlino 2023 due prodotti in particolare le Total Protection Case TPC per AirPods Pro e le custodie impermeabili per Beats Studio Buds Plus Parlando delle custodie TPC, quindi a protezione totale per AirPods Pro possiamo dire che questa nel corso del tempo, questa infatti è l'ultima versione si è guadagnata il soprannome di carro armato data dalla sua resistenza qui in questo caso per questa versione parliamo di una resistenza a 6 metri per ciò che riguarda le cadute, quindi cadute da 6 metri e una protezione di impermeabilità IP68 fino a 100 metri Catalyst presenta però come dicevamo prima anche la custodia impermeabile per i Beats Studio Buds Plus questa è diventata un po' un'iconica custodia impermeabile che ha un design monopezzo e ideato per adattarsi perfettamente a entrambi i modelli di Beats Studio Buds quello che possiamo dire da un punto di vista meramente numerico è che la custodia offre un grado di impermeabilità IP67 di un metro ad un metro di profondità e una protezione anticaduta di 1,2 metri il design del coperchio mantiene al proprio interno il dispositivo evitandone la caduta e quando c'è bisogno di estrarre gli auricolari basta semplicemente ripiegare il lembro superiore su se stesso e ciò che riguarda quindi questi prodotti saranno disponibili per il pubblico per provarli, per vederli dal vivo qui all'IFA di Berlino da oggi fino al 5 settembre grazie e ciao